Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Prima di tuffarci nelle ultime notizie succose, assicuratevi di premere il tasto iscriviti, attivare le notifiche e lasciare un mi piace. In questo modo, resterete sempre aggiornati sulle prossime notizie che condivideremo con voi. Oggi abbiamo una notizia piuttosto sorprendente, ma vi prego di rimanere con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli intriganti. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è stato colmo di sussurri e voci. Al centro delle chiacchiere troviamo due volti molto amati dal pubblico, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia che ha deliziato i fan con la loro chimica in passato sembra essere arrivata a un bivio. Voci di una presunta crisi tra Cecilia e Ignazio hanno iniziato a circolare, creando un'atmosfera di incertezza e speculazione. È stato lo stesso Ignazio a decidere di fare chiarezza, svelando lo stato attuale della loro relazione. Ma ciò che ha rivelato lo scopriremo più avanti, quindi restate sintonizzati. Cambiamo ora scenario, muovendoci verso le spiagge esotiche del famoso programma di MTV, Ex on the Beach. Un nuovo capitolo sta per iniziare, e con esso emergono cambiamenti significativi. Cecilia e Ignazio, che in passato hanno guidato con carisma e passione le edizioni precedenti del reality, quest'anno non saranno più i conduttori. Ma chi prenderà al loro posto? Chi sarà la nuova coppia a guidare questo viaggio avventuroso, in cui otto cuori solitari si imbarcano in una ricerca affascinante dell'amore su un'isola paradisiaca. La produzione ha fatto una scelta, e sembra essere un colpo di genio. Giulia Salemi e un nuovo volto sorprendente, Pierpaolo Pretelli, saranno i timonieri di questa nuova edizione. Il produttore Eugenio Bonacci è ottimista, e convinto che la nuova coppia di conduttori saprà raccogliere e valorizzare l'eredità lasciata da Cecilia e Ignazio. Quest'edizione promette di essere elettrizzante, e sarà in onda in esclusiva su Paramount, a partire dal prossimo 22 novembre. Ma ora, torniamo alla rivelazione che tutti aspettavate. Ignazio Moser ha parlato, ed è tempo di svelare il mistero che avvolge la sua relazione con Cecilia. Ignazio Moser ha rivelato che la loro relazione non sta andando affatto bene, e il motivo per cui i due non saranno più i presentatori del rinomato programma TV è proprio per via della loro possibile separazione. Ci piacerebbe conoscere le vostre opinioni e pensieri su questa svolta sorprendente. Lasciate un commento qui sotto, e condividete con noi le vostre reazioni e riflessioni su quest'ultima notizia bomba. Grazie per essere stati con noi, e non dimenticate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. A presto. Grazie. Grazie.